Il divieto di vendere e coltivare Cannabis Light proposto dal governo all'interno del disegno di legge sicurezza ha messo in apprensione diversi commercianti in provincia di Cremona. Nello specifico la cotitolare del negozio Canapa World sottolinea come, qualora lo stop fosse confermato, danneggerebbe un business in forte crescita, composto oltre che dai rivenditori anche dalle decine di coltivatori del prodotto presenti sul territorio. La negoziante pone poi l'accento sui benefici che la Cannabis Light, che contiene un quantitativo di THC inferiore allo 0,5, ha sui consumatori. Dal punto di vista del negozio ovviamente sarebbero degli effetti devastanti, ma non solo per me. Su Cremona siamo in tanti, non tantissimi negozi, ma tanti coltivatori, dell'ordine della decina. Dal punto di vista invece della realtà del CBD, della realtà della Cannabis Light sarebbe devastante per i tanti clienti, tante persone che lo usano a scopo terapeutico. È questo su cui bisogna lavorare. Il discorso è che la Cannabis Light non è droga perché viene usata per il 99% delle persone che la usano a scopo terapeutico, come rilassante, come antiepilettico, a decine di indicazioni. Qui ne potete leggere qualcuna. Però è realmente, ormai lo vedo nei miei quattro anni di esperienza, mi sto rendendo conto che anche chi era inizialmente scettico, scoprendola e provandola, anche per sentito dire, per consiglio di amici, ha scoperto quanto in realtà sia utile e può sostituire miriadi di medicinali. Il mio 70% dei clienti è un over 50, proprio perché viene usata a livello terapeutico per stare bene, per rilassarsi, per dormire meglio, per i dolori, per decine di altri aiuti che può dare la Cannabis. Germania è stata liberalizzata, Spagna è stata liberalizzata, la Francia ne sta discutendo, cioè dovunque viene liberalizzata, da noi viene tolta. Forse c'è qualcosa che non quadra?